Buon pomeriggio a tutti, grazie agli organizzatori, a tutti gli ospiti, al personale scolastico e alle autorità presenti. Se siamo qui oggi e se c'è addirittura una diretta streaming, perché qui oggi non c'entravamo tutti, vuol dire che il tema è un tema che interessa a tutti e vuol dire che tra di noi, almeno tra di noi, ce lo possiamo dire, che sul bullismo e sul cyberbullismo un'emergenza educativa sicuramente c'è. Essere qui questo pomeriggio vuol dire che come adulti abbiamo veramente a cuore la salute, il benessere dei nostri ragazzi, la sicurezza, la positività delle loro relazioni sociali, ma come diceva adesso la sindaca Appendino, abbiamo a cuore anche gli adulti, perché come ho già detto prima, quando si parla di bullismo e di cyberbullismo bisogna partire da un presupposto che la formazione che si fa a scuola non può riguardare soltanto i nostri studenti, ma spesso deve essere fatta anche alle famiglie e ovviamente al nostro personale scolastico ed è in maniera concreta che su questo fronte noi agiamo. Nella giornata dedicata al bullismo aprire questo tipo di riflessioni non deve apparire assolutamente come un esercizio di retorica, è il momento invece per dare una nuova spinta all'azione di contrasto verso certi fenomeni che a mio modo di vedere oggi è più che mai necessaria, ma è un'azione di cui tutti, e dico tutti, dobbiamo farci carico. Lo vediamo con i nostri occhi. I ragazzi stanno sempre più sui social, frequentano forse più il virtuale che il reale, e in quegli spazi dove il vero e il falso si confondono, dove le identità si alterano, dove si falsificano, il pericolo dell'aggressione, ahimè, è sempre ineguato, è sempre dietro l'angolo. Un'aggressione fatta di parole gravi, parole di odio, verso chi si considera diverso, questa diversità che fa così paura ormai in questo paese, verso chi si vuole umiliare, immagini rubate, video privati, dati impasto al web per ferire gli altri. Non ve lo nego, anch'io sono stata vittima di attacchi violenti, di un linguaggio d'odio che mai avrei immaginato venendo dal mondo della scuola, quasi quasi di dover subire. Quindi so benissimo di che cosa stiamo parlando, di fake news, di tutto quello che potete immaginare. Come si diceva prima, molti ragazzi, a volte anche gli adulti, pensano che queste possano essere considerate delle bravate. No, assolutamente. Noi sappiamo benissimo che non è così e lo sappiamo perché a causa di certe bravate alcuni giovani si sono tolti la vita per la vergogna, per la vergogna dopo essere stati bullizzati, altri tutt'oggi non hanno il coraggio di uscire di casa. È evidente che non possiamo essere indifferenti, tantomeno può esserlo un ministro dell'istruzione, tantomeno può esserlo la scuola. La scuola non potrà mai essere indifferente a tutto ciò. Per questo io oggi ho voluto essere qui, a ribadire che il sistema educativo è presente su questi temi ed è sempre dalla parte dei ragazzi, delle famiglie, dell'alleanza educativa che deve esserci nelle nostre istituzioni scolastiche, perché ne abbiamo bisogno assolutamente tutti. In questa sala ci sono tanti rappresentanti delle istituzioni, ma anche della scuola, ci sono gli esperti, ci sono persone che si occupano dei minori, ci sono le associazioni, ci sono diversi attori. A questi attori io dico una sola cosa, facciamo squadra. Facciamo squadra, una squadra che si schieri compatta contro il linguaggio dell'odio, contro ogni forma di discriminazione, contro ogni forma di aggressione, perché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni da contrastare, da contrastare con forza e con convinzione. La scuola ovviamente sta facendo da tempo la sua parte e il ministero è al suo fianco. Martedì per esempio, durante il Sefer Internet Day, la giornata del web sicuro che celebreremo a Napoli, approfondiremo questi temi, lo faremo con tanti esperti, lo faremo con i ragazzi, con gli studenti, e le studentesse che saranno con noi. Vedete, io ho sempre pensato che i giovani abbiano bisogno di buoni esempi, abbiano bisogno di guide. Non è vero che non sono interessati, che vogliono essere totalmente autonomi, no. Hanno bisogno di esempi. La politica spesso questo esempio non lo dà. Io qui voglio fare un mea culpa, anche se io non ho mai utilizzato un linguaggio aggressivo nei confronti di nessuno, ma in politica ce ne sono tanti bulletti che utilizzano i social come non dovrebbero. Utilizzano i social come non dovrebbero e pur di avere qualche like in più sono disposti a gettare in pasto ai peggiori haters qualsiasi cosa. E questo non può essere l'esempio da dare ai nostri studenti. Quando io insegnavo in classe, e mi piaceva da morire stare in classe con i miei studenti, insegnavo delle regole. A volte loro mi dicevano, e però profe, in Parlamento si sono tirati le sedie, in Parlamento si sono detti X e Y. Un docente che crede fermamente nel suo lavoro, e se vogliamo anche nella sua missione di essere docente, ha difficoltà a rispondere poi agli studenti quando gli studenti ti pongono certe domande. Quindi la politica io spero che pian piano assuma responsabilità e cambi passo anche su questo. Nel 2017 è stata scritta una legge molto importante di cui ringrazio la persona che è qui, oggi tra di noi, che questa legge l'ha voluta, la legge numero 71 del 2017. È stato un primo intervento del Parlamento che ha coinvolto attivamente le scuole attraverso la creazione di referenti interni su questi temi. Da poco la Camera ne ha approvato un altro testo che va ad integrare quello precedente. Perché lo si sta facendo? Perché il Parlamento si è dato l'obiettivo, rispetto a quello che vi ho detto prima, di responsabilizzare e coinvolgere più da vicino scuola e famiglia attraverso percorsi più condivisi e più adeguati. È previsto anche il coinvolgimento del gruppo classe nelle procedure che le scuole devono adottare per l'emersione e la gestione di atti di bullismo. Sul piano della prevenzione si introduce un monitoraggio costante su tutte le scuole italiane e viene introdotta una specifica formazione sull'educazione emotiva per i docenti e per le docenti referenti del bullismo in modo da prevenire e gestire i conflitti. Il testo adesso andrà al Senato. Mi piace molto la parte del titolo di questo incontro che parla di cura delle relazioni e delle reti sociali. I nostri giovani hanno bisogno di cura, si sentono forti a volte dietro i loro schermi, a volte pensano che dietro lo schermo non ci sia nessuno. Piovono like dopo che hanno postato un video, una foto di cui vanno fieri. In realtà sono molto fragili e sono ingannati da emozioni effimere che durano un attimo o poco più. E allora qual è il nostro compito? Rafforzare la loro capacità di pensiero, la sicurezza che hanno in se stessi, nel loro essere, nelle loro conoscenze. Possiamo aiutarli a non cadere così in quei tranelli, a renderli consapevoli delle grandi opportunità della rete, perché è chiaro che la rete dà delle grandi opportunità, ma anche dei rischi che nella rete si trovano e che possono essere delle vere trappole. Mi ha molto colpita un racconto che un papà aveva fatto quando aveva scoperto che il figlio era all'interno di diverse chat, no, Whatsapp, sapete, ce ne sono tante. in quella chat Whatsapp tra compagni avevano deciso di escludere alcuni compagnetti di classe. Il papà ha detto al figlio ma ti rendi conto che sei dentro una chat per cui altri bambini vengono esclusi? Cioè l'aggressività non è soltanto quella fisica, può essere quella verbale, può essere quella delle omissioni, in questo caso delle esclusioni. E ha fatto sì che il figlio si rendesse conto di tutto ciò. Io mi chiedo però quanti genitori sono così attenti nei confronti dei loro figli tanto da fare capire loro che la scuola non è un posto in cui si esclude qualcuno. La scuola è il posto di inclusione per eccellenza, è il posto in cui formiamo i cittadini italiani. E allora ai ragazzi queste cose vanno spiegate perché se non le si spiegano poi appunto si rischia di avere fatti gravi come quelli che purtroppo abbiamo conosciuto. Non dobbiamo più e dico mai più avere ragazzi che decidono di togliersi la vita perché sono state vittime dei bulli. E io in questo vi chiedo veramente aiuto perché un ministro dell'istruzione da solo non ce la può fare. Non fa niente nemmeno con tutta la buona volontà di questo mondo. Ci vuole uno scatto da parte dell'intera società civile che ripudia certi modi di fare e di essere. Quindi tutti noi dobbiamo farci carico di questi fenomeni e ci credo ancora che l'Italia possa migliorare. Questo sogno ce l'ho penso che possiamo avere un paese migliore però so che questo lavoro non lo possiamo fare insieme e non lo posso fare da sola lo dobbiamo fare insieme a tutti voi per tutti i nostri giovani e le nostre giovani che hanno bisogno di risposte concrete da parte di noi adulti. Grazie. 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 Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.